Viaggiatore di YouTube, benvenuto sul mio canale, io sono Grizzly. Qui trovi Diario di Viaggio on the road. Ogni domenica mattina alle 8 parliamo di cultura generale, tecnologia, attualità oppure cronaca. Ogni prima domenica del mese Diario di Viaggio on the road diventa Operazione Nostalgia, e andiamo alla scoperta di cultura, folklore o tecnologia del passato. Non solo, sono un tecnico informatico e con Vita da tecnico, cerco di realizzare una nuova stagione ogni anno, ti racconterò le disavventure più particolari che vivo facendo questo lavoro. Inoltre sono anche un volontario di Protezione Civile, e occasionalmente pubblicherò dei video da servizio e emergenze, anche girati con la dashcam o la telecamera sull'elmetto. Troverai questi video nella playlist Protezione Civile Volontariato a Soccorso. Sono un grande sostenitore dell'accessibilità, per questo praticamente tutti i miei video hanno sottotitoli in italiano. Insomma, se ti ho incuriosito, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerai subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Se ti iscrivi anche al mio canale Telegram, riuscirai a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, oppure ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte. Sono molto attivo all'interno della community di YouTube Italia, il mio social preferito è Twitter. Su Twitter condivido i video che ho trovato interessanti, e con Twitter mi piace tantissimo interagire con gli altri. Tra l'altro utilizzo Twitter quando sono in servizio di protezione civile o durante le emergenze per avviare video in diretta, per cui se vuoi interagire con me, ricordati di seguirmi anche su Twitter. Sono Grizzly, e ti ringrazio per avermi ascoltato fino a questo momento. Ciao, e ci vediamo su questo canale!